Ciao, cominciamo a vedere un po' di modifier. Allora, gli ultimi color sono abbastanza facili da comprendere. Use Saturation gli abbiamo dato un'occhiata l'altra volta. Vediamo un pochino che opzioni ha. Allora, permette di cambiare il colore dei segni e dei materiali, diciamo, la loro saturazione, quindi quanto sono forti o meno, quindi tutto a sinistra è bianco e nero, tutto in fondo sono colori molto vivaci, e il valore, cioè quanto sono scuri, a 0 diventano neri, a 2, diciamo, dovrebbero diventare bianchissimi. Se aumentate sempre di più questo valore, come vedete, a un certo punto diventano proprio bianchi, perché è come se si illuminassero, il valore di default è 1. Qui invece il valore di default è 0,5, perché questo è il colore originale. Se lo porto a 0, sono andato al colore esattamente complementare e anche a 1, per cui dovete pensare ovviamente come a una ruota. Guardate la normale ruota dei colori. Cambiare U significa far ruotare questo punto sulla ruota, quindi 0,5 significherebbe che da questo verde finisco in questa zona del viola. Invece fare il giro completo, diciamo, ci riporta qui. Mentre invece la saturazione significa scorrere lungo il raggio di questo cerchio, dei colori più forti a quelli meno forti, e il value invece è come utilizzare questo, e quindi dal più chiaro al più scuro. Come ho detto, è possibile dare un'influenza, quindi di agire solo su un materiale. Per esempio potrei agire solo su questo materiale, e in questo caso il cambio di U è avvenuto solo a livello di un certo materiale e non di altri. Un'altra opzione interessante è che si può agire a livello di stroke e fill, oppure solo a livello di stroke o solo a livello di fill. Qui non si nota tanto, ma se zoomo si può vedere che il bordo, qui lo stroke, è molto sottile, è questo segno qua, perché è anche poco opaco, si vede che ho usato lo strumento matita. Quindi se io adesso lo applico solo su stroke, possiamo notare che è la matita a diventare gialla. Dovrei saturarla, ecco, vedete che comunque agisce solo sul bordo esterno. Da questo punto di vista può essere interessante, tiro via questo modifier, il modifier opacity. Opacity serve a cambiare l'opacità del segno. E quindi per esempio, se io adesso lo applico solo a stroke, e aumento questo fattore, vedete che il segno diventa più opaco. Quindi mi è permesso, grazie a questo modifier, cambiare l'opacità originale con una variante. Come sempre, qual è l'utilità di queste cose? Il fatto che posso animarle. Quindi cambiare l'opacità del segno in edit mode, o comunque andando a modificarla, vuol dire modificarla in questo fotogramma, diciamo, per sempre. Usare un modifier ha il vantaggio che questo valore può essere animato. E quindi ovviamente, come ho detto, possiamo andare a separare in alcune zone, solo in certi layer o solo in certi segni. E un'altra opzione interessante dell'opacità è che posso decidere di utilizzarla in maniera uniforme. Cioè, se io la clicco, questo valore di strength che metto non è un moltiplicatore della forza originale, ma è il valore effettivo. E quindi va a cambiare la strength del segno completamente, ignorando quella che io posso aver fatto con la penna. Quindi, se io lo tolgo, questo valore è un moltiplicatore. Quindi 1 è l'opacità originale che ho dato, anche con le variazioni fatte con la penna. 0,5 sarebbe la metà, e 2 sarebbe il doppio. Mentre invece, facendo gli uniform, questo è il valore finale dell'opacità. 1 significa completamente opaco e va a sovrascrivere del tutto le opacità fatte a penna. Ultimo modifier della categoria color è tint, che permette di cambiare il colore principale, come al solito, di stroke e fill, di fill o di stroke. Per esempio, scegliendone uno qua, e quindi, vedete, cambiando completamente colore al materiale, e questa è la forza del cambio. Quindi a 0 non succede niente, a 1 cambia completamente. Questo forse è un po' troppo saturo per riuscire poi a notare le altre cose, però, vedete, in questo modo ha cambiato stroke e fill di tutto, però, quindi anche del riflesso. Se io voglio limitarlo solo alla goccia, come al solito, possiamo andare a scegliere il materiale e quindi, come vedete, ho bloccato il funzionamento solo a questo materiale. L'ho sostituito in maniera uniforme, con un colore verde, con una forza di 1. Anche questo, valore, strength, è molto comodo per essere animato e quindi un'eventuale variazione di colore comandata da un'animazione. Se invece di un colore unico volessi sostituire il colore non con un colore uniforme, ma con un gradiente, notate però che è diventato rosso. Quando diventano rossi, modifier, vuol dire che non stanno funzionando, che gli manca ancora qualcosa. In particolare, vedete, che mi chiede un oggetto che dia il centro dell'effetto di gradiente. oggetto che io in questo momento non ho. Quindi questo modifier ha bisogno di un altro oggetto. Possiamo creare un empty. Vado in object mode, creo un oggetto empty. Di solito si usano gli empty per queste cose, proprio perché non sono renderizzati. E ora posso pescare l'empty in questione e qui posso definire un gradiente. Possiamo cambiare i due colori, quindi, che ne so, da giallo a... Facciamo proprio due colori vistosi, da giallo a blu. E vedete, qui c'è un gradiente, posso cambiarne le regole. Vedete, comincia da blu in alto e viene giù giallo. Ha un certo raggio, posso cambiarne il raggio. Grazie alla posizione dell'empty, se torno in object mode, esposto all'empty, posso notare che questo gradiente si muove insieme all'empty. Quindi può essere utile per fare delle variazioni di colore. E avete a disposizione qua tutte le funzioni per i gradienti di Blender. Per esempio, ctrl-click, aggiungo un nuovo punto dove posso cambiare completamente colore di nuovo. Magari appunto il raggio qua può diventare due metri. Invece di lineare, si può andare a scegliere costante e in questo modo i colori si possono essere suddivisi a fasce invece che a gradiente. Quindi ho tutte queste varie possibilità e pensate che si può anche animare eventualmente la posizione dell'empty e quindi cambiare il comportamento di questo modifier anche animando l'empty e non solo animando tutti questi valori qui. Adesso lo rimetto su lineare. vedete quindi l'effetto di questo gradiente. Anche qui ho la forza ovviamente come per uniforme. Posso passare da non fare nessuna modifica al colore originale a modificarlo completamente. Può essere un modo per esempio per andare a cambiare il colore di un disegno che ne so, in un momento in cui faccio solo un esempio, si vuole fare un flashback e mettere un colore in bianco e nero potrei creare un gradiente bianco e nero qui e passare quindi da un disegno a colori a un disegno in bianco e nero facendo la saturazione a zero e qua facendo invece il nero e quindi questo potrebbe essere un gradiente adesso che fa bianco e nero e ho la possibilità appunto usando l'empty di andare a cambiarlo. Quindi in base alla vostra fantasia però questo è l'uso e come tutti gli altri posso appunto cambiare qui il layer o il materiale sul quale agisce. Grazie e alla prossima!